Salve a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti sul mio canale YouTube, Fabio Silver News. Oggi affronteremo una notizia di grande rilevanza che ha catturato l'attenzione di molti. Oggi parleremo di un argomento che ha scosso l'attenzione pubblica e naturalmente ne discuteremo in maniera approfondita. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. L'illustratrice italiana Sandra Milo ci ha lasciato nella sua dimora all'età di 90 anni, serenamente addormentatasi nel suo letto, come aveva espressamente desiderato, avvolta dall'affetto dei suoi cari. La triste notizia è stata confermata dalla sua famiglia, che ha reso noto il decesso di Sandrocchia, come affettuosamente la chiamava Federico Fellini, il quale l'aveva eletta a musa ispiratrice. Nata a Tunisi l'11 marzo 1933 con il nome Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano, partecipando a circa 70 film di registi illustri come Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Sergio Corbucci, Luigi Zampa, Dino Risi e molti altri. Il suo primo ruolo di rilievo è datato 1959 nel film Il generale della rovere di Rossellini, seguito da altre interpretazioni memorabili accanto a figure del calibro di Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo, Marcello, Mastroianni e altri. La vita affettiva di Sandra Milo è stata altrettanto intensa quanto la sua carriera artistica. Socialista ai tempi di Bettino Craxi, ha vissuto una lunga relazione con Federico Fellini durata 17 anni, rivelata al pubblico nel 2009. Dal suo primo matrimonio a 15 anni con il marchese Cesare Rodighiero, che durò appena 21 giorni, fino all'unione con Ottavio De Lollis, da cui ha avuto i figli Ciro e Azzurra, la sua vita privata è stata paragonata a un film. Oltre ai successi cinematografici, Sandra Milo ha fatto la storia della televisione italiana, anche se nel 1990 è stata oggetto di uno scherzo crudele durante la trasmissione L'amore è una cosa meravigliosa. Un falso incidente stradale riguardante suo figlio Ciro ha scatenato l'emozione della Milo in diretta, diventando un momento memorabile nei media. Nel 2023, Sandra Milo ha concluso la sua carriera televisiva con il programma Quelle brave ragazze su Sky. La sua morte è stata annunciata dai figli, Deborah, Ciro e Azzurra, tramite un post su Facebook, chiedendo rispetto e preghiere per la sua anima. Colleghi come Pierluigi Diaco l'hanno ricordata come un'amica sincera e una compagna di viaggio preziosa, sottolineando il suo contributo al mondo dell'intrattenimento. Con la sua scomparsa, il mondo artistico perde una delle sue figure più iconiche, ma l'eredità di Sandra Milo rimarrà viva attraverso i suoi contributi indelebili al cinema e alla televisione italiani. La sua carriera, costellata di successi e di sfide personali, ha plasmato un'artista amata e rispettata che continuerà ad ispirare le generazioni future. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questo aggiornamento su Fabio Silver News. Se l'argomento di oggi vi è interessato o se avete commenti e opinioni da condividere, vi invito a farlo nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, così da non perdere i prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirmi su Fabio Silver News per rimanere sempre informati su notizie intriganti e dibattiti stimolanti. Il vostro sopporto è la forza trainante di questo canale e non vedo l'ora di condividere con voi nuovi sviluppi e approfondimenti. Grazie ancora per essere parte di questa community e ci vediamo nel prossimo video su Fabio Silver News. Un saluto da Fabio Silver e a presto. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social, troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.